TSD Notizie Kids il telegiornale dei bambini e dei ragazzi e benvenuta anche a te Alessandra è un telegiornale speciale che racconta anche il nostro punto di vista ed è proprio così, si tratta di un vero telegiornale ma anche di un laboratorio, una fabbrica di idee e di notizie che migliora di settimana in settimana grazie al contributo di tutti è un modo per conoscere quello che succede nel nostro territorio non solo una cronaca ma anche cultura, libri, mostre, eventi e molto altro e allora andiamo subito a vedere il primo servizio l'intervista che come classe prima avete realizzato andando ad intervistare i bambini della scuola elementare Antonio Curina vediamo Grazie a tutti Noi ragazzi di prima media abbiamo deciso di intervistare i bambini di quinta della scuola Antonio Curina per sapere come immagini il passaggio dalle elementari alle medie Come ti immagini la scuola media? Me la immagino molto più difficile di quelle elementari poi ci sono più professori, più materie da studiare, più compiti e anche gli indirizzi sono parecchio difficili tra loro e diversi Ti preoccupa incontrare nuovi insegnanti e studiare nuove materie? Eh sì perché i professori sono molto più severi delle maestre ci sono molti più compiti da fare e inizierò una nuova materia in latino e poi ci sarà grammatica che è una materia molto difficile L'ho già visitata insieme a miei compagni per approfondire un po' di cose in più sulla scuola media e la stanza che mi ha colpito di più è stata quella di musica che è piena di strumenti infatti il prossimo anno andrò al musicale suonando il pianoforte Quale indirizzo pensi di scegliere? Penso di scegliere l'umanistico perché mi piace molto grammatica e italiano Penso di scegliere il linguistico perché so imparare velocemente le lingue e mi piace viaggiare Con la tua classe stai svolgendo un progetto di continuità con i ragazzi di prima media? Sì, con la mia classe abbiamo fatto delle cose di un progetto di continuità con la scuola media e abbiamo girato anche un cortometraggio sulla Shoah Abbiamo anche visitato la scuola media e faremo dei giochi di matematica Sarà difficile per te compiere questo grande salto dalle elementari alle medie? Sì, un po' perché mi dovrò abituare al nuovo ambiente alle nuovi compagni, ai nuovi orari e alle nuove professoresse che credo siano più severi Ti dispiace lasciare le maestre da alcuni compagni? Sì, a me dispiace molto perché ormai è da 5 anni che sto insieme ai miei compagni e alle mie maestre e mi sono affezionati quindi mi dispiace molto anche se so che alle medie troverò nuovi amici Secondo te quali sono gli aspetti positivi della scuola media? Io credo che le insegnanti non siano così severe perché da un momento all'altro ci abitueremo a loro e i nostri nuovi compagni di scuola credo che siano simpatici e faremo molte gite dove andremo in posti lontani a cui non abbiamo potuto andarci quando eravamo nell'elementari Passare dalle scuole medie a quelle superiori è un grande cambiamento e può spaventare ma per facilitare le cose ai ragazzi che entrano nella prima classe della scuola superiore ci sono i tutor ora scopriamo insieme chi sono e che cosa fanno Vediamo insieme il servizio Aiutare i ragazzi che entrano nel mondo delle scuole superiori a socializzare ed integrarsi Questo è il compito dei tutor in genere ragazzi del terzo quarto anno delle scuole superiori che accolgono gli studenti delle prime classi nella nuova avventura del liceo Da alcuni anni l'istituto tecnico Buonarroti di Arezzo si impegna in questa attività All'inizio dell'anno i tutor attraverso giochi ed incontri con i ragazzi li aiutano a fare la conoscenza dell'istituto ma soprattutto dei compagni Anche altre scuole affidano l'accoglienza dei nuovi arrivati agli studenti più grandi e già inseriti nella progettazione degli eventi e al corrente delle varie attività e tradizioni della scuola Passare dalla scuola media a quella superiore è un passo decisivo nel cammino di uno studente Attraverso metodi di studio diversi, più autonomia e nuove esperienze ed amicizie gli studenti sviluppano anche nuovi punti di vista e modi per conoscere meglio il mondo che li circonda All'interno del servizio che abbiamo appena visto è stata nominata più volte la parola tutor Ma chi è il tutor? Anche se molti pronunciano la parola in inglese in realtà la parola tutor deriva dal latino dal verbo tueri che significa proteggere, difendere I tutor sono persone, in genere insegnanti, che guidano gli studenti nel corso dei loro studi facilitano l'apprendimento attraverso esperienze di gruppo o altre attività E si chiama tutor anche lo strumento che serve a misurare la velocità media delle automobili in autostrada proprio per tutelare la sicurezza degli automobilisti In una società dove si diffonde sempre più la cultura dell'usegetta ci sono ancora persone che amano raccogliere e conservare oggetti particolari Uno degli hobby di alcuni studenti della scuola media severi è proprio quello del collezionismo Adesivi, figurine, francobolli, monete e miniature diventano piccoli tesori da curare Guardiamo insieme come nasce questa passione nell'editoriale di questa settimana Vediamo Abbiamo scoperto che molti ragazzi della classe prima A della scuola Francesco Severi amano il collezionismo Francobolli, adesivi, miniature e figurine sono le più collezionate Ma la cosa che più ha colpito è che questi ragazzi dedicano molto tempo alle loro collezioni E le curano come se fossero i loro tesori Ad esempio, Niccolò Fineschi colleziona francobolli Con i francobolli ci si può divertire E voi vi chiederete come Per esempio classificarli e ordinarli per data Paesi di provenienza e per rarità E capire la loro storia Sì, hanno una storia i francobolli Dal primo francobollo, il penny nero d'Inghilterra Senza quei famosi dentini E andando sempre più avanti nella storia Si incontrano vari tipi di francobolli Quadrati, rotondi, ovali e triangolari Se siete dei risparmiatori e amati i soldi Chi colleziona i francobolli sa che ognuno ha il proprio valore Quelli con il valore più alto sono rari Il più famoso di quelli italiani è il Gronchi Rosa Un francobollo che illustra il viaggio nel 1961 Del vecchio presidente Gronchi Che andò in Perù Il disegnatore sbagliò i confini di stato del Perù E così diventò raro per un errore di stampa Giacomo Guidelli, invece, colleziona miniature del Signore degli Anelli Ha ereditato questa passione da suo padre Che collezionava soldatini in scala 1 a 72 Questo è il procedimento per colorare con cura una miniatura Colorare la base della miniatura di bianco o di nero Lasciarla asciugare, poi colorarla nei minimi dettagli Infine colorare il piadistallo di marrone o di verde Serena Forzoni, frugando negli armadi di casa della sua nonna Ha ritrovato scatole piene di adesivi Sono adesivi particolari Alcuni pubblicizzano aziende che ora non esistono più Per esempio la libreria dei ragazzi Pinocchio La ditta GF di Nautica e Campeggio E la ditta di tutte sportive Chihuahua Tra i vari ha messo anche adesivi dei giochi della gioventù Del 1982 e del 1985 Le diverte confrontare le pubblicità attuali con quelle di 30 anni fa E' bello capire anche attraverso degli adesivi il passaggio del tempo Aurora Barbagli colleziona monete antiche E possiede la moneta da 2 euro dell'Unità d'Italia Che vale 80 euro E la moneta con il volto di Cavour che vale 70 euro Di Tizza Franchi colleziona le figurine di Arezzo, la sua città Dice che è un'interessante iniziativa del comune Perché scopre delle parti di Arezzo che non conosce Studiare serve per crescere e per trovare un lavoro Ma non solo Pensa Alessandra Con lo studio e con la formazione Si può perfino costruire la pace tra paesi in guerra Questo si chiama Metodo Rondine L'associazione Rondine Cittadella della Pace E' stata ricevuta dal Papa che ha benedetto il nuovo progetto Sponda Sud Nel pomeriggio presso la Camera dei Deputati L'associazione ha presentato il bilancio dello scorso anno Vediamo allora insieme come si è svolto l'evento E seguiamo la nostra TUP a Roma Per festeggiare i 15 anni di attività dell'associazione Una delegazione di Rondine Cittadella della Pace Accompagnata dall'Arcivescovo Riccardo Fontana E' stata ricevuta in udienza dal Papa Il presidente dell'associazione Franco Vaccari E giovani dello studentato internazionale Hanno ricevuto dal Santo Padre La benedizione per il nuovo progetto Sponda Sud Che nella prossima estate porterà a Rondine i primi 15 giovani Provenienti da Tunisia, Egitto e Libia In questi territori infatti Che si trovano nella sponda dell'Africa Che si affaccia sul Mediterraneo Durante il 2011 Sono nati dei movimenti culturali e sociali Guidati dai giovani La loro volontà è quella di aprirsi ad un nuovo futuro E costruire le basi per un mondo di pace e fratellanza Il progetto di Rondine vuole creare un solido rapporto di fiducia Fra mondo arabo, Italia ed Europa Grazie ai giovani più promettenti Interessati a sviluppare il dialogo e la collaborazione Si tratta del primo progetto a livello nazionale Che sceglie di dare sostegno attraverso la formazione Ai desideri dei giovani arabi La giustizia sociale è il centro di tutto Venerdì 2 marzo ne ha parlato con gli studenti aretini Don Ciotti Il sacerdote italiano più attivo nella lotta contro la mafia Don Luigi Ciotti ha speso la sua vita al servizio dei giovani Per aiutarli a crearsi un futuro migliore E nel contrasto alla criminalità organizzata Grazie a associazioni come Libera Secondo Don Ciotti tutti, anche più giovani Possono fare qualcosa contro la mafia Anzi, i propri giovani possono essere il cambiamento Ascoltiamo le sue parole Vediamo allora che cosa ha detto Don Luigi Ciotti È il noi che vince È una sfida educativa e culturale I giovani non devono avere paura di cercare la verità Ognuno di noi deve fare la propria parte Questo è il messaggio che Don Luigi Ciotti Fondatore e presidente di Libera Associazione impegnata dal 1995 nella lotta alla mafia Ha trasmesso ai giovani nell'incontro di qualche giorno fa ad Arezzo Don Luigi Ciotti ha parlato agli studenti aretini Dell'importanza dei temi della giustizia sociale e della legalità Ha poi sottolineato l'importanza della memoria nella lotta alla mafia È infatti fondamentale non dimenticare tutte quelle persone Che nel corso della storia, anche recente Si sono impegnate anche a rischio della vita Per difendere la giustizia e creare una società onesta Un tema, quello del contrasto alla mafia Importante anche per il nostro territorio Che come ormai gran parte d'Italia È purtroppo interessato da fenomeni di questo tipo Abbiamo sentito parlare di mafia Ma che cosa significa questo termine? Mafia è appunto un termine generico Spesso usato per definire varie forme di criminalità organizzata La mafia ha rapporti con la politica, l'economia e le istituzioni sociali Con le persone cioè che dovrebbero combatterla È un'organizzazione segreta e pericolosa Il suo scopo è quello di accumulare denaro e potere E per ottenerli utilizza la violenza ed uccide se occorre Nata in Sicilia nel XIX secolo Si è poi diffusa in tutta la nazione Ha il controllo su certe attività economiche Illegali e condiziona la libertà dei cittadini Anche i genitori tornano a scuola È un progetto del comune di Arezzo Quello della scuola permanente per i genitori Per far riflettere babbi e mamme sul loro ruolo e sul loro rapporto con i figli Vediamo allora di che cosa si tratta nel prossimo servizio Anche le istituzioni possono contribuire a creare occasioni ed iniziative Che possono sostenere i genitori a svolgere un ruolo che diventa sempre più complesso Con questo presupposto il comune di Arezzo ha attivato All'interno di una rete di soggetti pubblici e privati Il progetto scuola permanente per genitori Con una serie di attività nelle scuole L'idea fondamentale è quella di sensibilizzare le famiglie Scegliendo alla scuola quale sede ideale Per mettere i genitori in condizione di riflettere Sul loro ruolo e sul rapporto con i figli Fornire informazioni e competenze per una loro attività Con altri genitori nel campo della prevenzione del disagio delle dipendenze Creare un'intesa solidale e permanente Fra insegnanti, genitori e operatori sociali A fianco del comune di Arezzo in questo progetto Anche UNICEF US 8 Pediatri di famiglia e provveditorato agli studi Proponiamo in questo caso a una scuola Che è un progetto pilota Monte Bianco la scuola All'interno dell'Istituto Comprensivo Severi Proponiamo degli argomenti Sono tre lezioni Tre incontri per ogni ordine di scuola Quindi scuola nido, materna, elementare e medie Che vanno dagli argomenti più vari Dall'alimentazione al comportamento dei genitori La gestione dell'ansia, dello stress La prestazione nello sport Hanno fatto dei professionisti Secondo noi un ottimo lavoro Che l'amministrazione comunale Si è preso la briga di coordinare Castiglion Fiorentino parla tedesco Sembra strano Alessandra, vero? È vero, ma parlamene I ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni da Castiglione Di Castiglion Fiorentino Hanno ospitato i coetanei tedeschi Del liceo gemellato E li hanno guidati nella visita di città E luoghi importanti del territorio Ma vediamo che cosa è successo nel dettaglio Nel prossimo servizio Si è conclusa con successo Anche la seconda edizione Del viaggio di formazione Dei 22 studenti tedeschi Del liceo Heichtheit A Castiglion Fiorentino Dove sono gemellati Con l'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni da Castiglione Una partnership culturale Quella tra le due cittadine Che dura ormai da 15 anni E che da due Si è sviluppata nella forma del gemellaggio Dal 26 marzo Gli studenti tedeschi Ricambieranno il favore Accogliendo una delegazione Di 34 ragazzi castiglionesi Noi facciamo la visita Di alcune città E poi facciamo anche Riunioni di professori Di allievi Loro fanno le feste La sera Si incontrano Si parlano Allora facciamo Un po' il patrimonio Abbiamo per esempio Visitato Firenze Come città del rinascimento Della moda Abbiamo visto anche gli uffizi Poi abbiamo anche fatto Cortona Abbiamo visitato Castiglion Fiorentino E i ragazzi italiani Hanno fatto la guida Hanno presentato la loro città In lingua tedesca E quando i partner Vengono su da noi In Germania Facciamo la stessa cosa Sono rimasti Molto contenti Dalle famiglie Le famiglie Devo dire Di questo territorio Sono sempre molto molto ospitali E i ragazzi Dopo un primo disorientamento Perché per loro L'italiano in questo momento È una lingua ancora difficile Lo studiano solamente Da un anno Da un anno e mezzo Comunque I nostri ragazzi Parlano tre lingue In qualche modo Riescono a capire Come si dice Monumenti Chiese cattedrali Musei E altri tesori culturali A retini Non vengono presi In considerazione O valutati Come dovrebbero Il progetto Centro itinerario Più 1 Per la settimana Edizione Coinvolge Gli studenti Del Casentino Nella scoperta Dei segreti Alle bellezze del territorio Vediamo allora Tutti insieme Il prossimo filmato La provincia di Arezzo Conta 57 musei 294 chiese 42 parchi naturali E aree protette E 1.154 eventi culturali Un patrimonio artistico Considerevole Dotato di un'enorme potenzialità Ma che non viene sfruttato a dovere I beni artistici e culturali a retini Infatti Possono essere una molla di sviluppo E dare possibilità di lavoro Nell'ambito del turismo culturale Sono però solo 400 Le imprese attive In questo settore Quello del turismo È un ambito In cui dobbiamo investire di più Soprattutto per i giovani È importante infatti Formare una generazione Di aretini Alla quale affidare Il patrimonio culturale Affinché diventi Anche un elemento Di sviluppo economico Ecco come nasce il progetto 100 itinerari più 1 Un'avventura per scoprire I segreti della Valle del Casentino Che permetterà ai ragazzi Di conoscere il proprio territorio Il progetto È fra gli insegnanti Nuove opportunità Per arricchire l'educazione Dei ragazzi Migliorando la loro formazione E preparandoli al meglio Per il mondo del lavoro Magari proprio nell'ambito Del turismo E del patrimonio culturale Del nostro splendido territorio Per concludere Vi proponiamo Un evento molto interessante Che si sta tenendo In questi giorni In Casentino La mostra del libro Per ragazzi È partita nei giorni scorsi La mostra del libro Per ragazzi È un inizio Che ha avuto Una grande affluenza Di scuole E di famiglie La mostra del libro Che abbraccia un arco di età Che va dai 0 ai 14 anni Prevede due grandi percorsi La narrativa E la divulgazione La narrativa È organizzata Per età E per tipologia Cartonati Prime esperienze Albi illustrati Classici Poesia Il settore della divulgazione Invece È organizzato Per argomenti Divulgazione scientifica Storica Manualità La mostra È allestita Presso il centro italiano Della fotografia D'autore In via delle Monache 2 A Bibbiena Ed è aperta Fino al 18 di marzo Con il seguente orario Dal lunedì Al venerdì Dalle 9 alle 13 E dalle 15 alle 18 Sabato Dalle 9 alle 13 E dalle 16 Alle 19 Infine La domenica L'orario di apertura È dalle 16 alle 19 Questa era la nostra Ultima notizia Siamo giunti Alla fine Del nostro telegiornale Per segnalare progetti E iniziative Potete scrivere a kids.tsdtv.it E continuate a seguirci Anche su www.tsdtv.it Grazie Alessandra E a voi tutti Auguro un buon proseguimento Con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti